Cosimo Michele Sciarabba per gli investigatori e il capo della famiglia mafiosa di Misilmeri in provincia di Palermo, il suo braccio destro è Alessandro Ravesi, coordinavano le attività criminali, in particolare il racket delle estorsioni. Intercettazioni e pedinamenti hanno dato la possibilità ai carabinieri di ricostruire le richieste di pizza a un imprenditore edile, al titolare di alcuni supermercati, al proprietario di un'azienda vicola. Oltre a Sciarabba, il cui papà Salvatore è stato al vertice del mandamento di Misilmeri, Belmonte Mezzagno e Ravesi, sono stati arrestati altri quattro soggetti organici al clan. A Sciarabba, secondo i carabinieri, è riconducibile un'impresa di ambulanze e servizi funebri di Palermo che veniva gestita da un prestanome. Il boss si muoveva ad ampio raggio, aveva contatti con altre figure dominanti nello scacchiere mafioso, che incontrava spostandosi anche nell'Agrigentino. Lì si confrontava con Leo Sutera, considerato il capo provinciale della mafia. L'operazione della scorsa notte è stata denominata Fenice e vede sei arrestati accusati di associazione di tipo mafioso e distorsione aggravata al metodo mafioso. Una parte dei soldi guadagnati dal clan veniva destinata al sostentamento delle famiglie dei detenuti.